L'associazione Bentú e Iara presenta a Sulla Via della Cometa, il presepe vivente di Assolo. Tra antichi portali e ampi cortili, oltre 200 figuranti daranno vita al presepe vivente più grande della Sardegna. Segui la Cometa, riscopri il borgo di Assolo tra sorprese, emozioni e colpi di scena. Festeggia il Natale nei punti ristoro, con tanta musica e allegria. Sulla Via della Cometa, il 29 dicembre ad Assolo, assisterai ad un miracolo straordinario. Segui Sulla Via della Cometa anche su Facebook e Instagram. Grazie a tutti.